I trattamenti chirurgici dell'obesità sono riservati fortunatamente ad un percentuale minore rispetto ai soggetti che hanno bisogno di un trattamento nutrizionale o endoscopico. Tuttavia qui possiamo identificare quelle grandi categorie nelle quali possiamo dividere. Ci sono i trattamenti endoluminali restrittivi, più di pertinenza dell'endoscopia operativa e il vendaggio gastrico che è un tipico trattamento restrittivo che porta il paziente a mangiare meno. Esistono poi gli interventi malassorbitivi che noi riserviamo soltanto a soggetti con particolari necessità o con particolari problematiche di disturbi del comportamento alimentare che riducono l'assorbimento pur consentendo lo stesso introito alimentare precedente che certamente non era ottimale. La maggior parte degli interventi che si effettuano attualmente sono interventi di tipo misto. Ad esempio la gastrectomia verticale che in questo momento è l'intervento più praticato e che abbinano una restrizione ad una quota di malassorbimento non importante. Identifichiamo il bypass gastrico del cosiddetto mini bypass che sono questi tre interventi, quelli come ho detto più effettuati e che utilizzano anche un meccanismo enteroormonale che attraverso la mediazione e la modifica degli ormoni intestinali riducono l'appetito del soggetto. Quindi li aiuta a fare una dieta, gli consente di assorbire meno, insomma un dimagrimento importante senza grande sofferenza. Grazie. Grazie.